Ciao a tutti, sono Andrea Gresti. Vi volevo dire che tempo fa il direttore artistico del Festival Cabaret al Pesto, Fabrizio Lopresti, mi disse Agresti, che verresti a fare il tuo spettacolo di cabaret? Faccio io. Quando? Il 6 luglio. Il 6 luglio sono libero. Dove? Alle piscine di Pra, al centro sportivo Aragno, a Genova. Certamente, ci vengo proprio volentieri. Per cui sabato sera, sabato 6 luglio, sarò lì. Mi raccomando, vi aspetto numerosi. Ci si vede sabato. Ale, ale!